Giampaolo, sei anni dopo, cosa ricorda lei di quel giorno? Sei anni dopo ricordo che non si arrivava mai, ricordo la prenotazione dei giorni prima, ricordo la chiamata in quell'albergo alla reception per chiedere se era tutto a posto, se poteva andare, ci hanno confermato che poteva andare, ricordo la nevicata, la neve, tanta neve, ricordo la paura delle scosse di terremoto e poi credo queste sono le cose un po' più brutte, poi l'unica cosa bella che ricordo sono gli ultimi momenti passati con mia moglie, con Valentina e quelli non si cancellano e rimangono aduati nel mio cuore. E poi ricordo il momento della valanga e tutte le altre, parlo per me, 62 ore successive che sono stato sotto le macerie. Quando è arrivata la valanga, cosa è successo? Quando è arrivata la valanga eravamo appena quasi tutti quanti rientrati perché eravamo andati a sistemare le macchine che nessuno ci veniva a pulire la strada per andare via perché le macchine erano pronte tutte quante per andare via. Siamo rientrati e ho avuto giusto il tempo di salutare a questo punto Valentina e qualche altro ospite che era vicino a noi. Io ero in piedi, ero sotto all'arco che separava il bar mi sembra, il corridoio tra la hall e la libreria e il bar dalla sala dove c'era il caminetto grande, dalla sala tutta allestita e lì è arrivata questo vento, questo grandissimo vento. Io poi l'ho spiegato, l'ho detto a tutti come quando arriva la metropolitana, però la metropolitana arriva a una soffiata di vento, sai. rimani lì, a me questo vento mi ha preso dietro le spalle perché davo le spalle alla montagna in quel momento mentre parlavo e mi ricordo che volavo, io mi ricordo proprio che volavo, ho provato ad aggrapparmi con le mani da qualche parte ma mi ha sbattuto lontano e poi un botto, una bomba che esplosa e poi un silenzio purtroppo da cimitero.